Musica Eccoci di nuovo insieme con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 21 aprile. Ha ripreso tono il mercato degli extravergini di produzione nazionale, con quotazioni che sono aumentate da 6,23 euro di inizio marzo a 6,40 euro di questa settimana. Diverse le risposte riscontrate. Infatti, sulle maggiori piazze italiane si hanno valori che vanno dai 6,77 euro di Chieti Pescara a 6,15 euro di Taranto e Catanzaro. Portando a confronto l'andamento delle quotazioni degli oli registrate da gennaio ad aprile dello scorso anno e di quest'anno, si evidenzia che nel 2023 si ha un incremento del 39,2%. Mercati esteri Prezzi ancora in leggero rialzo, limitate le contrattazioni. È preoccupante l'assenza di pioggia in Andalusia. Le temperature medie continuano ad essere piuttosto elevate. Bene, invece, per le aree olivicole della Grecia, dove le precipitazioni hanno ben idratato terreni e piante e si assiste ad un timido inizio di fioriture per le varietà precoci. Nel grafico le colonne blu indicano i prezzi della scorsa settimana, in rosso della presente. Variazioni che vanno dai 2 centesimi in Algeria ai 7 centesimi chilo in Marocco. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Gitti Grazie a tutti.